Con l'inserimento nei servizi minimi della tratta Giulianova-L'Aquila-Roma, in varianza di bilancio, che comporterebbe una perdita di circa 125.000 euro al mese e l'ipotesi di tagliare fino a oltre milioni di chilometri di trasporto pubblico locale per coprire le perdite, si accende il dibattito e la polemica si infiamma in commissione sulla riforma del trasporto pubblico regionale. Le opposizioni promettono battaglia in consiglio regionale chiedendo all'unisono di salvaguardare il trasporto locale per non penalizzare soprattutto le aree interne. Noi avevamo questi timori e questi sospetti, 3 milioni di tagli tra un milione di tagli veri e propri e 2 milioni di privatizzazione del servizio pubblico. Saranno di nuovo le cosiddette fasce interne, le tratte a domanda debole, la parte più fragile delle nostre comunità a rimetterci da queste scelte che a mio avviso compromettono l'assetto e la difesa del servizio pubblico dei trasporti. Migliaia e migliaia di chilometri tagliati in spregio alle aree interne che stanno soffrendo già lo spopolamento della popolazione. Con il taglio delle corse subiscono ancora di più l'impoverimento e quindi l'abbandono totale delle aree interne. Ma dobbiamo denunciare altre cose importanti in tua. Ci sono mezzi che continuano a uscire con le spie rosse accese. Fare di fatto un'attività di subaffidamento vorrei che questa attività di subaffidamento non derivasse dal fatto che non è contribuita la tratta giù la nuova deramo l'Aquila a Roma che per ipotesi è da ricondurre al servizio minimo. Quindi la tratta giù la nuova l'Aquila a Terra a Roma dovrebbe essere per la volontà del governo regionale inserito nel servizio minimo ma con un contributo ulteriore rispetto a quello che deriverebbe, così sembra di capire, dai tagli. Quella del taglio di un milione di chilometri di tratte locali è un'ipotesi che non sta in piedi secondo il sottosegretario alla presidenza dell'Aggiunta regionale Umberto D'Annuntis che dice nessun impoverimento del servizio pubblico ma al contrario la sua valorizzazione. Per quanto mi riguarda non vi sono tagli nei piccoli paesi. Io capisco la necessità della minoranza e in particolare del consigliere Palucci di cercare visibilità in questo particolare momento, però il nostro piano di razionalizzazione che verrà presentato comunque nei tempi previsti dalla legge non penalizzerà in alcun modo i piccoli paesi. Ci sono delle storture che vanno eliminate, ci sono degli sprechi che vanno eliminati, ci sono linee doppie che insistono su uno stesso tracciato. Noi agiremo su questi sprechi cercando di razionalizzare e di dare un servizio completo a tutto il territorio. E intanto alla luce dei tagli annunciati i sindacati confermano lo sciopero.